Siamo, a volte inconsapevolmente, un popolo che affonda le radici della propria identità in una terra depositaria di un immenso patrimonio culturale che a volte neanche conosciamo. Arte, archeologia, storia e tradizioni rappresentano una testimonianza viva di come la Calabria abbia rappresentato nel tempo un'importante crocevia di testimonianze diverse che attraverso i secoli hanno plasmato un'identità culturale, spesso legata alla religione. Questo avviene soprattutto nell'entroterra, dove in particolare nel periodo bizantino e normanno il territorio della Vibonese pullulava di monasteri e conventi che erano veicolo e scrigno di cultura e progresso economico. Lo studioso Franco Luzza lo evidenzia con il suo lavoro sulle orme di San Pietro Spina di Ciano nella Calabria bizantino-normanna, che racconta di una significativa presenza monastica il cui ricordo rischiava di essere dimenticato. Del suo libro se ne è parlato a giro carne, con la partecipazione di storici e studiosi. L'incontro, grazie alla presenza del commissario del Parco delle Sere Alfonso Grillo e del presidente del GAL Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, ha aperto scenari nuovi, individuando queste realtà storiche quali importanti risorse economiche da valorizzare ed utilizzare per dare nuovo slancio allo sviluppo del territorio. La cultura diventa così parte integrante del processo di crescita sociale ed economica di un paese e di un'intera regione. Si parte da una base cui è preponderante il fatto storico, quindi la storia, che comunque dà quei presupposti per poterci lavorare, anche perché la storia è identità, identità culturale, identità geografica, identità antropologica. Per cui il libro contestualizza questa identità del monachesimo e la proietta in un sistema contemporaneo in cui veramente si possono realizzare situazioni che portano anche economia, ricchezza come ad esempio il cammino di cui si parlava stasera del normanno, le visite alle chiese, le visite ambientali. Il libro sulle orme del monastero di San Pietro Spina di Ciano, nella Calabria bizantina normanna, racchiude in sé tutti questi fenomeni, queste attività che possono essere veramente collocate adesso ed espletate in una nuova contemporaneità, in una nuova proiezione seria di eventi culturali.